Direttore Generale Italia Antonello Marrocco Nomasveio è una catena internazionale presente in 15 paesi al mondo ad oggi con più di 1000 centri. L'incontro con Nomasveio è avvenuto alla fiera del franchising di Valencia nell'ottobre 2009. Siamo dei centri estetici specializzati nella depilazione a luce pulsata e soprattutto il prezzo. Noi abbiamo pensato invece di offrire con una tariffa unica un prezzo molto interessante per dare la possibilità a chiunque di accedere a questo servizio. Quindi basta con le cerette, basta con i dolori, basta con la follicolite, con i peli incarniti. Questo ci ha permesso appunto di avere una risposta molto molto positiva da parte della clientela dall'utenza italiana. La customer satisfaction per quanto riguarda appunto il cliente finale è molto alta. Abbiamo una redemption che si aggira intorno al 90%. Per quanto riguarda invece l'affiliato, anche in questo caso bisogna parlare appunto di customer satisfaction è il fatto che il 50% ad oggi dei nostri affiliati hanno già aperto più di un punto vendita a distanza di neanche un anno. Stiamo proponendo proprio appunto nell'occasione della fiera del franchising di Milano un evento molto importante per noi, questo metodo, questo tipo di finanziamento fatto direttamente dall'azienda. Quindi non si passa tramite, attraverso istituti bancari, istituti di credito eccetera. diamo la possibilità appunto a chi ci contatta in questa fiera, in questi giorni, di accedere a questo tipo di promozioni. L'investimento parte dai 30.000 euro, poi quello appunto può variare in base al pacchetto scelto. Abbiamo tantissimi investitori, la maggior parte sono investitori proprio perché abbiamo sistematizzato il progetto, il format e diamo la possibilità a chiunque di investire appunto di aprire il nostro centro e dedicarsi ad altro. Abbiamo introdotto appunto quest'anno, nel 2012, un nuovo marchio che si chiama Mass Aesthetic. Mass Aesthetic in cosa consiste? Consiste praticamente nell'ampliamento di quelli che sono i servizi. A parte la specializzazione che è quella della depilazione a luce pulsata, abbiamo aggiunto proprio quest'anno una nuova tecnologia, di ultima tecnologia che è quella del LED. Una nuova macchina LED che ci permette di fare quattro trattamenti che sono sbiancamento dentale, riduzione della cellulite, rassodamento corporeo e anti-age. La geniale idea venuta dai nostri ingegneri è stata quella di sviluppare un macchinario passivo. I nostri centri non hanno bisogno di altro personale, quindi non aumentano quelle che sono le spese fisse di gestione. Si programma e fa tutta da sola. Vi invito naturalmente a visitare il nostro sito che è www.nomasvello.it anche se si pronuncia nomasveglio. www.nomasvello.it www.nomasvello.it